Un punto molto importante con una squadra che si gioca la Champions, non è facile venire a San Siro e abbiamo fatto secondo me una prestazione molto buona e dobbiamo lavorare su quello perché non abbiamo fatto niente fino adesso. Ci racconti quell'ultima azione, su quell'ultima palla? Cosa è successo? Non mi siete capiti, tu non l'hai visto? Dai, raccontacelo tu che eri in campo perché per noi da fuori magari è un attimo, quindi non riusciamo a giudicarla bene però voi che la vivete, tu che l'hai vissuta quella situazione? La vuoi spiegare anche ai nostri tifosi? No, no, io l'ho visto a Fofa però secondo me è stato molto bravo il difensore perché io era con la palla e aspettavo che il difensore mi chiuda e lui è rimasto lì e sempre era con Fofa, quindi secondo me è stato molto bravo lui. Ecco, vi ha dato coraggio Mr. Tudor in questi giorni ma anche a partita in corso, quando a un certo punto, anche dopo il gol del pareggio ha continuato con questo assetto offensivo tenendo tutti e quattro voi giocatori d'attacco insieme in campo. Sono messaggi che un giocatore in campo percepisce, Rodrigo? Sì, è vero che lui chiede questo e questo che si vede è quello che chiede lui, attaccare, attacchiamo con il terzino e vuole che in aria hanno sei, sette giocatori e sono cose che alla fine ti fanno fare il gol, no? Perché più gente porta in aria, più possibilità c'è. Adesso è una finale con l'Empoli. Sì, adesso è un'altra grande partita come abbiamo fatto quelli tre in casa, ultime tre che l'abbiamo vinto e noi sappiamo che quando siamo in casa con queste squadre che sono vicino a noi la dobbiamo preparare al 100%. Grazie. Grazie. Grazie.